Un pallone, no? È un'altra cosa! Un pallone ancora lì, centralmente verso Fiorio, è scattato da mani, attenzione all'interno dell'area di rigore, il pallonetto Signorini, non è finita ancora da mani, c'è Fiorio che è ripiegato, va al tiro il numero 23, arriva il pari dell'atletico smistamento al ventusimo minuto, Fiorio è stato rapace d'aria qui. L'atletico smistamento molto intelligentemente riparte sempre in contropiata, attenzione nuovamente Fiorio all'interno dell'area di rigore, il tiro, Signorini ancora Fiorio ed è 2-1, un 1-2 micidiale nell'arco di due minuti del numero 23, atletico smistamento che trova il vantaggio per 2-1, ancora Fiorio. È partito Frasca sulla destra, Di Loreto lo vede, forse con qualche secondo di ritardo, Frasca centrale, Tamani, pallone che rimane lì, Fiorio il tiro con i piedi Signorini, ancora Fiorio il tiro, Signorini. 3-1, atletico smistamento a seguito di un batti e ribatti. 3-1, Frasca. Ancora Foxa. Bucur. Largo sulla destra. Al limite dell'area, ora all'interno centrale, ancora verso Conte, il pallone rimane al limite. 3-2, la corcia Soares al trentunesimo minuto. Matkulov fa di stare palla molto bene Sporting Roma che deve cercare di concretizzare tutte le sortite offensive viste finora. È partito Conte, lo stop del numero 20, all'interno dell'area di Gora ancora Conte, il tiro, San Filippo Miracolo. E poi palla che però termina alle spalle del numero 12, sembrava terminare fuori, invece no. 3-3, la pareggia Conte, doppietta per lui. Scognamillo, Bucur, salta di Loretto, ancora Bucur, va solo, va al tiro e arriva il 4-3 dello Sporting Roma. Al trentaseiesimo della ripresa, 4-3, firmato Bucur. Foxa a combattere, sta forse il gomito numero 29. È partito Foxa come un treno qui, ancora il 77, centralmente. Sibico, l'appoggia per Soares, va col piazzato, 5-3 e Soares, doppietta per lui, abbraccia Sibicov. Finisce qui il match tra Sporting Roma e Tretico Smistamento, 5-3.